A Ponte Medica c'è una pineta, tutte le sere si fa l'amor. A Ponte Medica c'è una pineta, tutte le sere si fa l'amor. A Sera non, perché non viene, non vivo al bene. Qui a Campo Imperatore abbiamo incontrato Angelo Napoleone, quest'anno senza pecore? Senza pecore. E come mai? Eh, perché non voglio più venire qua. Quanti anni sono che tu vieni qui al Campo Imperatore? Che ci veniamo con le pecore sono stati circa una quindicina d'anni, ma che attualmente sono 4-5 anni che noi ci veniamo. Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Perché non conviene più? Perché le spese sono tante linee che ricavate il mondo. Quante pecore avete ancora a Sergio? Circa 200. Solo 200 pecore. E altri allevatori a Sergio oltre a te? E sta a Cipicchia che ce ne avrà lo stesso un paio di cento e l'altro non lo so quando ce ne ha. Quindi questo è un mestiere che sta scomparendo? Sta scomparendo, sì, giorno per giorno. Giorno per giorno scompare. 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 ma tu stai con le pecore qui oggi che ci vengono solamente la gente che non conosce la vergogna ma chi è cambiato perché prima ci venivano tutti pure da sergi quindi non conviene più allora vieni come visitatore quando pecora c'è ancora dove stanno la soltaglio ponte le montagne si è cacciato il terremoto se ne vede sotto i punti pure le pecore sono terremotate allora è mezza la sartanella è mezza la sartanella è mezza la sartanella e non vado a vedere l'ora A Ponte Medica c'è una pineta, tutte le sere si fa l'amor. A Ponte Medica c'è una pineta, tutte le sere si fa l'amor. Stasera no, perché non viene, non vivo il bene, non va mai più. Stasera no, io vivo solo, con il fiasco rosso e il pane rosso. A Ponte Medica c'è una montana, porca montana.